Buongiorno, benvenuti a Garden Trifoglio di Boggio. L'estate sta continuando con il clima che tutti abbiamo visto, non ci sta sicuramente assecondando. I pomodori si sono ammalati in tutti gli orti, nella nostra serra i pomodori sono sani perché essendo protetti dalla pioggia non hanno avuto problemi di malattie fungine. I peperoni stanno venendo molto belli, molto sodi, questi sono i peperoni quadri di Vogheira, sembrano finti, sembrano veramente belli, sono buonissimi, ottimi da fare alla griglia quando il tempo ce lo permette di fare le grigliate e adesso andranno avanti a produrre. Da settimana prossima avremo le nostre conserve fatte con i nostri peperoni, i nostri pomodori, avremo dei sughi per la pasta, avremo sughi per le bruschette, per l'aperitivo e dei peperoni in agrodolce. Vi aspettiamo settimana prossima. Grazie. 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 Grazie.